Il progetto generale europeo in tutta Europa, i propri lavoratori, gli studenti precari scendendo in piazza, sono scesi in piazza contro l'austerity, contro la crisi, contro tutte le misure che i governi, che la banca centrale europea, la troica appunto, eccetera, ci impongono per risonare il debito pubblico, un debito che non abbiamo creato noi ma che a frutto di speculazioni finanziarie questa crisi è creata dei poteri forti all'economia e noi siamo qui a gridare che noi non la vogliamo pagare e non la dobbiamo assolutamente pagare. Le uniche cose che sono servite e servite ai lavoratori, ai的时候colati, ai pegari e ai compagatori è che noi non siamo nel problema di discussione dall'estate, noi andiamo nel problema di un piano diалиi politico e della città, noi non siamo quelli che vogliono con quelli che non capire con il tempo è quello che è innamorato da tutti i punti che 不i che viene da tutti i punti diolisso con l'euro. Abbiamo bisogno di ripetere ancora una volta il concetto che noi questa crisi non la vogliamo pagare e che questa crisi è una crisi che non abbiamo provocato noi, ma è stata provocata dalla grande finanza, dalle grandi economie mondiali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.